Abbiamo il martello e abbiamo il paletto. Siamo pronti ad affrontare i vampiri che anche questa settimana sono di nuovo protagonisti nella videorubrica Sui Genelis. I am Dracchio. Ma domenica saranno di nuovo presenti a La Boutique del Mistero su Radio Number One. Tenete d'occhio quindi il sito del premio Torre Crawford e Radio Number One e la mia pagina Facebook. Perché i vampiri continuano a essere tra noi.